ok dov'è il cimitero? sarà quello là in fondo? è questo è questo qua in fondo sì Marta è nella cripta di famiglia quel posto fa paura la tata mi ha raccontato che ci andavamo da piccole per vedere chi aveva il coraggio di scendere le scale nessuno superava i primi due scalini e ora è lì sotto da sola al buio avrà una paura terribile oh ma che è stasera che sta allargato? la cripta è qui non ora non ora speriamo che non ci sia il custode mi metti i brividi quell'uomo qual'è la cripta di famiglia? eccola qua questa porta è chiusa ma io devo assolutamente entrare ci sarà qualcosa per forzare il lucchetto qui in giro? ma quello che ho visto all'inizio ad entrare non me l'hai fatto prendere se sto entrando qua e trovo una cesuaglia beh io me la porto poi se non mi serve la butto per terra torniamo indietro e prendiamola va bene scusa se ho anticipato il gioco ah già è vero ci presti stanno in cimitero prima che il custode turni buona l'idea di non mettere cognomi però ciascuno sta da una parte io mi trovo dalla parte della mia famiglia ma non so se è la parte giusta basta non posso più andare avanti così non posso continuare a fare finta di niente la mia famiglia è stata massacrata da questi sporchi nazisti mia figlia non è stata neppure seppellita e io ho dovuto seppellire quella mezzosangue una famiglia italiana che si è sporcata con i tedeschi bastardi ecco cosa sono ora cosa dovrei fare della mia vita voglio farla finita ma voglio portarmi dietro un po' di tedeschi non mi vedrete più ma sentirete parlare di me viva la resistenza viva l'italia istruzioni per l'uso dell'apparecchio telefonico automatico supponiamo che desideriate chiamare il numero 0573 staccate il microtelefono dal gancio e portate il ricevitore all'orecchio sentirete un suono continuo introducete l'indice nel foro corrispondente al numero 0 girate il disco fino al punto di arresto lasciate che il disco ritorni liberamente alla sua posizione di riposo ripetere la stessa operazione per le cifre 573 vabbè mi ricordo ancora come funziona questo e ora? entra nella cripta di famiglia oddio ho sbagliato di nuovo scusa non è questa la cripta di famiglia? no oh ho girato ah no è questa la cripta di famiglia la cripta di famiglia è chiusa e che diavolo la chiave è nel casotto del custode come sempre ma mo sono stato nella cosa del custode come corre? ah eccolo vabbè il custode non torna non andiamo più di fretta abbiamo letto ma che facciamo mo? sfondiamo la tomba? facciamo un'autopsia? capisco perché avevamo paura da piccole è un luogo piuttosto tetro jumpscare eh un po' di panza si vede che dio mi possa perdonare per quello che sto per fare e perdonami soprattutto tu, Marta uno per uno oh attenzione quello che si vede va oh no 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 ho capito per quanto sia tutta folle però dai no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti A tutti Chissà poi perché Ah dobbiamo fare pure la divinazione Sono troppo vicino Grazie a tutti Ora basta Sviluppo la foto del feto Sono rimasto un po' senza parole C'era delle avvertenze Beh direi di no Bene, la prego Consideri l'idea di lasciare l'Italia Come le ha suggerito suo marito Sarebbe meglio per tutti Soprattutto per la ragazza Temo che nulla possa farla migliorare Suo padre sembra non volerlo accettare Io credo che la speranza sia finita da tempo Concordo Ma in Germania potrà avere cure migliori In una clinica specializzata Il manicomio è una soluzione temporanea Per evitare che faccia delle sciocchezze È un posto da incubo Lei lo sa bene Non può volere questo per sua figlia Certo che non lo voglio Ma cosa posso fare? È un pericolo per se stessa Per noi Per tutti È anche sparita una pistola di Eric L'ha presa lei Chi altri? Sono così spaventata dottore Non posso più aspettare E poi lo sa cosa pensano degli italiani in Germania Vero? Ma sarete con Eric Uno stimato generale Tutti vi rispetteranno Quella dannata ragazza Dove sarà? Speriamo non faccia altre sciocchezze L'aspetterò qui in cantina Prima o poi verrà in camera oscura Questo è certo Rimarrei volentieri a farle compagnia Ma devo correre in paese Per sistemare le ultime cose per il ricovero Grazie dottore Non si preoccupi Ci vedremo più tardi Parlato così Non sembra una mamma cattiva Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.